Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Resident Evil 2 Allora, nell'ultimo video avevamo iniziato a perlustrare i laboratori dell'Umbrella Corporation Abbiamo preso il braccialetto di Sherry che ci permette appunto di aprire le aree e ora pian piano andrà potenziato Allora, vado a caricare la partita Vi ho fatto vedere le piante, quanto rompono i coglioni Che appunto sono sostanzialmente immortali Bisogna distruggerli i bozzi arancioni per farle cadere a terra O eventualmente usare, ho scoperto che questa è veramente una bomba, usare questo per buttarle giù subito Il problema è che, ripeto, quello che mi dà fastidio è che a quanto pare siano immortali, cioè non si possano uccidere A un momento hanno fatto di zombie immortali, ci mancavano pure le piante di immortali Quindi Vedete che tornano sempre su? Vale, ho sparato il bozzolo perché non è andata indietro Merda Dai Ok Forse gli ho sparato troppo prima per quello Non mi ha calcolato Appena si è alzata gli ho sparato il bozzolo e non è andata indietro Ogni volta che ho sparato i bozzoli arancioni dovrebbero appunto indietreggiare Una lì, due Devo andare di qua Spero di fare in tempo Via Se no si sparavo con le armi normali Pistola, così via Non facevo in tempo, mi prendevano le altre due Quindi ho preferito usare un colpo di... Non mi ricordo mai il nome Io lo chiamo taser Dal primo si chiamava taser Fucile a scarica elettrica Chiamiamolo taser Allora Prendiamo la mappa E prendiamo la polvere da sparo grande E poi vorrò fare una prova con la polvere da sparo grande Ma Prima di farlo salverò Non mi ricordo cosa crea Se si fondono due polveri da sparo grandi Ora di qua Qua non possiamo ancora andare nella stanza riserva Allora Qua c'è un'erbetta verde Prendiamola Allora Prima di tutto Facciamo fuori Gli zombie qua Che sono vivi Così sempre dovrebbe essere Tre colpi alla testa Buona Morti Non 5, 6, 7, 8 Randomico Questo è molto importante E ci svelerà una combinazione ragazzi Ed è qua sotto Ma allora Ma ho sbagliato il colpo Sapete perché dico che è troppo randomico? Cioè io i test li ho fatti Io prima di fare questo video ho fatto un pezzettino Questo qua ragazzi L'ho ucciso con un colpo in testa Vi giuro Li esplosa con un colpo Guardate adesso Che cazzo di resistenza insensata c'ha Cioè non deve essere così randomico Uno zombie normale Cioè ripeto non può Una volta perché di gira muore con un colpo Una volta con 5 Una volta No cazzo Non è una cosa che a me piace È una cosa che personalmente a me stressa È ancora vivo Cioè È ancora vivo dopo tutti quei colpi alla testa? Cioè fate voi Cioè guardate Non è Pensabile che era ancora vivo Vabbè Lo so sono un lamentone però Io sta cosa la voglio evidenziare Perché il gioco originale Da quel punto di vista L'ha calibrato perfettamente Sei colpi al corpo E lo zombie moriva Vabbè Chiediamo la parentesi va Tanto ormai l'hanno fatto così Io avrei fatto una faccia di correzione Sui danni sinceramente Perché i danni che prendono qua Sarebbero i danni che avrei messo all'estrema io E lì ci poteva stare Così No 3 Già la testa Cioè Sì vabbè però No No questo l'ho sbagliato Dai vai giù Non rompere i coglioni Ancora vivo Sicuro Cioè Ok morto Cioè dopo un po' è stressante sta cosa veramente Non ricordo se escono i liker ora O se escono dopo La cosa importante è ora andare a sbloccare prima questa parte qua Mi sono cagato addosso ragazzi Merda sono in due Merda 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 Mi sono cagato in mano E se sparo E se andassi piano Cioè Non Sto Io devo andare in quella porta lì Non posso andare chiusa E che se io sparo a quello sopra Quello sotto dopo sicuramente viene da me Porca troia Si avrei scommesso le palle No Ma da Ma tre sono? Tre? Tre? Sono tre? Ma dove è cazzo è passato questo? Ma Erano tre Mi è venuto un Ma è ancora vivo Ma che cazzo? Eh devo curarmi Vabbè Cura ne abbiamo Ma Ma cazzo Ma quanti sono? Sono preso un colpo Veramente Non ricordavo Ci sarò ora Questi qua sono morti felici insieme Tra l'altro il mio coltello ormai sarà Vabbè no dai Poco male Ma uno Due Ma quanti erano? Due erano? Mi sembravano di più sinceramente Non mi ricordavo che uscissero adesso Mi sembrava che uscissero quando tornavate qua Un attimo di terrore veramente Speravo che sparando la scarica Giustamente hanno un udito della madonna L'altro ha sentito Era meglio sparare direttamente una granata E non Non venivo colpito Se usavo la granata Merda Ma da dove? È qua? Eh Ragazzi non vedo Ma possono metterlo? Che palle Come faccio? Non è anche una granata per dire Potrei tirare la cecante Ma mi scoccia Ok Gambizzato Coltello Certo che metterlo così dietro la porta È una bastardata di prima categoria Ancora è vivo? Cioè Lo sto colpendo alla testa ragazzi Che poi questi qua Sembrano addirittura più resistenti Dell'inizio Capisco se erano degli zombie Modificati Capite? Un po' più potenti Tipo Crimson Head Del primo re L'area mastera da Cadic Ok Così no Cioè boh Ma vai a fanculo C'è questo è morto? È morto così? Siamo seri? Lo sapevo Cioè ma io non ho parole Io Dio santo Eh dio santo Io dovrei dire Vorrei dire qualcos'altro Ma non lo dico Non dio santo Ci avrei messo una bella bestemmia Al posto del dio santo Io adesso Che ci stava tutta Sinceramente Qua le munizioni Qua le munizioni Poi iniziano a scarseggiare Ci credo Con sti cazzo di zombie Che Che non muoiono Oh la tizia Oh la tizia Cioè capite che è una stronzata Pazzesca Ma avete visto che questa è morta con un colpo Così a caso È troppo randomica sta cosa qua Cioè Veramente Boio Infatti non voglio più soffermarmi su questa cosa Ve l'ho dimostrato più e più volte Che da quel punto di vista Veramente hanno toppato completamente Gli sviluppatori Ma Toppato Completamente Questo che cos'è? Oh bene Questo è molto importante Da prendere Però cavolo Sono tutti mutati Sono diventati delle piante Continuavano a tornare Continuano a tornare Ancora e ancora Bruciamoli tutti Bruciamoli finché i loro corpi non diventano Teranno cenere Non c'è altro modo Forse probabilmente usando una granata incendiaria Dopo averli atterrati Magari muoiono Le piante Però sono granate sprecate Alla fine Perché una volta atterrati Abbiamo il tempo di fare le cose Qua finalmente Sblocchiamo la porta Che ci fa riaccedere A questa zona qui Dove posso riorganizzarmi un attimo Un inventario Quindi Vediamo un attimo Questa la metto giù Voglio fare una prova ragazzi Però Prima salvo Nel caso carico la partita ragazzi Non mi ricordo cosa fa per quello Ok Proviamo a fondare queste due Ma vaffanculo Guardate quanti colpi però 56 Così fa un botto di colpi di pistola Ok Giusto per vedere Carichiamo la La partita Scusatemi Preferisco fondare quella E farmi le granate acide piuttosto Potevano far creare però anche le granate esplosive Intanto ci metto un attimo a caricare Quindi Deposita Prendiamo questo Facciamo le granate acide Allora ne deposito Ancora una dai Però così Poco spazio Tare slot e basta Anzi Li ordiniamo un attimo Ok Ho ancora un coltello da parte Fortunatamente Quindi torniamo qua Mamma che palle Mamma che palle Questo qua è quello giù Che è venuto fin su E ragazzi E ragazzi Ora che abbiamo preso questo Guardate Vedete Qua possiamo spostare le Le frequenze Su Osmove Avs E poi E poi la dobbiamo sistemare Vedete Una volta fatto Potremmo sbloccare appunto Determinate porte Tipo quella Dov'è che era Adesso ve la faccio vedere Se la trovo B2 forse No Questa Va messo qua Vedete Ora Fatemi fare una cosa Andiamo qua Devo ripassare da qua C'è quel rompicoglioni L'amo Ah merda Ok Il problema è che ho finito quasi colpi Sono in due adesso Avete visto? Mamma Che due palle Sono un pirla Avrei potuto usare la pistola Ma vabbè Io qua volevo andare Perché voglio fare la combinazione qua Vediamo Se me la ricordo Non me la fa vedere Allora Quei due lì La stecca Il rettangolino piccolo Vediamo se me la ricordo Allora La sono già dimenticata Io ho problemi con queste cose qua Ragazzi Allora 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 Quello lì E non mi ricordo l'ultimo Questa forse era Ok Bene Ora dovrebbe Mi pare che ci abbia aperto Il posto dove appunto potremmo inserire il contenitore vuoto Potrei andarci subito a dire il vero Così non ci penso più Cioè sono già tornati Vedete si rigenerano Guardate Guardate Questa è figa come cosa Il fatto che si rigenerano così Cioè che si possa vedere la loro rigenerazione Però che falle Cioè guardate Ma io voglio fare la prova E infatti Così muoiono definitivamente Così non si rialzano Però solo col fuoco La granata acida Dice che funziona No Sono delle prove che sto facendo Solo col fuoco Giustamente sono Piante Quindi Ehm Dicevo Via Alla velocità della luce Vedete che ci ha aperto quella Tra l'altro qua Ogni volta mi perdo io Però forse non va bene ancora Questa lo posso scartare Ci metterò due ore qua Autorità manuale attivata Regolare la soluzione In base alla capacità del contenitore E appunto dobbiamo creare Eh La dose giusta da mettere nel contenitore Allora Vediamo un attimo No 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 ho sbagliato E' vero che poi bisogna spostare questi Esattamente non me lo fa mettere Perché Scusate un attimo Ah ok Che pierla Vedete c'è anche pure la freccia Quello al centro Sposta di per spostare Lì a sinistra Vedete poi premiamo il verde Quindi qualora vuole spostarla lì Devo mettere quello lì E poi mettere Questa In teoria In teoria devo metterla tutta lì dentro Deve riempirsi fino alla Alla barra rossa lì Dovremmo essere a posto Il problema è che C'è da fare un po' di giri No 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 Facciamo così Ma con questo sono abbastanza impedito Sono abbastanza impedito con sta roba Tutte le volte che arrivo qua No, facciamo così va Ho messo lì probabilmente, forse ho capito Poi bisogna metterne un po' lì No, supero la dose così mi sa No, troppo Questa è troppo poca Ok, forse No Tutte le volte mi blocco qua, allucinante Una roba allucinante Mi fa cagare sto coso, cioè sinceramente Se ve la proprio devo dire tutta Era molto più semplice nella PS1 Da quello che ricordo Quello è a posto, mi serve dopo Forse ho capito Eh no Speriamo ma dubito No Questo è a posto Benissimo, contenitore, soluzione Tra l'altro non basta così forse Bisogna fare ancora qualcosa Ok Ma ci sono i rompicoglioni qua Eh ma che due palle ragazzi Che due palle È che adesso Devo fare così Vediamo Eh no Vedete non basta ancora La temperatura della soluzione È oltre i limiti Devo raffreddarlo Poi portarlo qua Per poter appunto Sbloccare quello La modifica appunto Per il braccialetto Mi servono le granate incendiarie Per levare dalle palle Quei cosi Mamma che due palle Mamma che due palle No No Dai Eh vabbè Lavoratorio non è brutto Ma è una gran rottura Di coglioni Poi Gli hanno fatto E' pure difficile Da colpire i punti Cioè Già sono praticamente Immortali Perché Anche se in realtà Non è vero Perché dopo Se li lanciamo la granata Muoiono definitivamente Però non è che posso Sprecare granate Per far fuori Tutti questi qua Che due bolle Oh mamma mia Che palle Non potevano lasciare Le piante Del gioco originale No Dovevano rompere i coglioni Se no Non erano contenti Sono rotto il cazzo Adesso Allora Fatemi lasciare giù Un attimo Questo Mi serve spazio Adesso Non ho più colpi Della mitraglietta Fatemi pensare Dove andare Prima Sto pensando un attimo Che giro a fare Facciamo così va Andiamo di qua Andiamo a prenderci L'ultimo borsello Del gioco Di là Si Infatti ripeto Se il gioco Era calibrato meglio Io gli davo tranquillamente Un 9 Anche un 9 e mezzo Ma Oltre il 7 Non vado Anche già son buono A dargli il 7 Personalmente Non dovrebbe esserci più nessuno Spero Qua c'è appunto La stanza relax Questo è morto Carbonizzato Ecco qua Muff Quindi cosa dobbiamo fare Dobbiamo prendere questo Esaminarlo X Andiamo su Muff Sistemiamo questo Che tra l'altro Questo è molto carino Da fare Vedete Bisogna sistemare la frequenza Questo è molto bello Allora Così No Così Vedete che combacia tutto X Cioè cerchio Scusate Pallino Ora Lo inseriamo Tac Eh Quello è vivo Nota di Wayne Lee Infatti poi andrò via Perché qua non c'è più niente Da prendere Inutili che mi metto qua A sprecare col piccolo zombie Dio santo Sangue dappertutto Cosa diavolo sta succedendo? Sono morti Sono tutti morti Sono stati quegli uomini Gli USA 6 Oh come cazzo si pronuncia Le forze speciali del quartiere generale Ma perché? Non dovevano proteggerci Ci sono cervelle e sangue dappertutto Ditemi che questo è un incubo Dio santo Perché? Non dicevano tutti che sono un genio Un genio come me non può morire in un posto come questo Ho sempre attunuto ottimi risultati Mi hanno fregato Ah ma sarò io a fregare loro Vincerò il Nobel Sono un eroe Un genio Un dio Non morirò Non Qua c'è qualcos'altro no? Vedete l'area è azzurra Andiamo via Non sto a uccidere quello lì E a perdere tempo E a sprecare munizioni C'è che c'era viva ancora dentro Però è tornata la luce lì No ma abbiamo preso tutti gli oggetti già prima se non sbaglio Quindi adesso Allora una cura piena ce l'ho Fatemi pensare una cosa Quattro spazi mi basteranno per quello che ho da prendere adesso? Non lo so Facciamo così va Quindi torniamo sui nostri passi Quindi fortunatamente dopo un botto di rano Ho scoperto che lanciando la granata incendiaria addosso a una pianta Quando gli avete distrutto tutti i bozzoli gialli muore Io non l'ho mai fatto perché non volevo sprecarle Invece con l'ion è più comodo perché l'ion c'ha proprio le lanciafiamme Cioè con l'ion dovrebbe essere più facile poi farle fuori Cioè io piuttosto avrei lasciato i laikier neri E avrei fatto un po' più forti Come del resto lo erano anche nel gioco originale Vi ricordate i laikier neri? Piuttosto che mettere ste cazzo di piante a rompere i coglioni Allora adesso Di qua? Sì Questo li ha fatto esplodare la testa Non vedo una cippa la luce grazie Poi qua quando torneremo Verrà giù una di quelle piante dannate Se non vado errato Ma sto microfono allora Devo cambiare le cuffie Per forza No No sì giusto Mi auguro non esca con altri laikier sinceramente Che poi da dove cazzo sono usciti dalla Potrebbe uscirne un altro Sapete? Perché qua è scoperto Murf Qua dobbiamo mettere murf ragazzi Ma prima Ah no sì dobbiamo fare questo Quindi x Andiamo su murf E ci stiamo avanti alla frequenza X Cioè scusate pallino E mettiamolo Dovrebbe accendere le luci Dare corrente a tutto Si è fatta la luce Ecco Ora Ammetto di avere un po' d'ansia Perché Uff Non ricordo se escono altri Leccaculo Io per sicurezza Tengo questo Ora possiamo accedere qua Vedete? Qua c'è un botto di roba da prendere Tra l'altro Polvere da sparo bianca Bella sta stanza Molto bella Coltello Benissimo Il box Il salvataggio Granate incendiarie Ottimo Abbiamo preso tutto Documenti Non ne vedo Ma può essere che Ce ne sono E qua ricordavo Che c'era qualcosa da leggere Ma forse ricordo male io Quindi Fatemi pensare Coltello lo metto giù Anche questo per ora Vedete ora può succedere anche qua Laboratorio a basse temperature Appunto per andare a mettere questo Va de retro satana Spero che non esca più niente Perché Potrebbe essere un problema Qua dentro Con elevata probabilità C'è qualcosa Forse c'era solo uno zombie Com'è scuro qua Scurissimo Quella è viva Ma infatti ce ne sbattiamo Si rialza dopo Posta di Winley Mettente Eric Mendoza Oggetto Che sta combinando? Sai che ha fatto Quello stronzo di Cartwright? A quel pezzo di merda Serve una camomilla Beh E' lui il capo Per ora Ehi Hai visto il mio trofeo Per caso? Il codice è nascosto Sulla base Se lo trovi Dimmelo Vabbè Quello che abbiamo già fatto Mettente Byron Cartwright Impegnato eh? E così proprio Non ce l'hai fatta Venire eh? E va bene Non preoccuparti Dell'ispezione della serra Te lo do io Qualcosa di semplice Da fare Calcola il budget Stimato Per l'anno successivo Al prossimo E fallo entro stanotte Mettente Eric Mendoza Sei vivo? Siamo sotto attacco Ci sono un sacco di morti La resta è isolata Non possiamo attivare Il ponte Con i nostri braccialetti Ma dove cazzo Si è nascosto Con lo stronzo Di Cartwright? Tente Eric Mendoza Oggetto Rispondi La pianta 43 Fuori controllo La serra è un inferno Dobbiamo mandarci qualcuno Prima che sia troppo tardi Wayne Come fermiamo questo macello? Devi aiutarci Rispondi Tente Eric Mendoza Oggetto Nessuno Ti ricordi di Susi? La cheerleader? Che bella ragazza Paceva entrambi Ma ovviamente Non era interessata A due nerd Devo ancora restituirti I fumetti E i giochi Che mi avevi prestato Credo che dovrai aspettare ancora Quindi ora ragazzi Siamo a posto Con l'inventario Abbiamo preso tutte le borse Nel gioco Qua dovrebbe esserci Una granata frammentazione Questo sicuro È vivo Ricordavo ci fosse Ah no vabbè Polvere da sparo Quindi inseriamo questo E il gioco è fatto Dopo possiamo finalmente utilizzarlo Procedure di raffreddamento In corso Eccolo qua Contenitore Erbicida Un contenitore Per disperdere varie soluzioni Nella serra Contiene Dell'erbicida Aspetamento completato Che in teoria Dovrebbe uccidere Anche le dannate piante Ma il problema È che mi sa Che non le uccide È un erbicida Cioè Spero le uccida Sinceramente Così non devo sprecare Proiettili Qua Mi ha dato Cazzurro Opposto Qua la si dovrebbe Rialzare No Solo se li passate Molto vicino Se la colpite Quindi Quindi qua Abbiamo preso tutto Qua Adesso Il problema È che adesso Arriverà un'altra Più di quelle piante Di merda Forse se corro Eh se corro Il cazzo Ma quanti ne ha Ok Ripeto Non è facile Sparare Quei cosi Perché si muove Troppo Devo caricare No Ce l'ha sulla spalla A sinistra Destra Ma che Palle Allora Vabbè Ma che due Coglioni Però C'è Veramente Che due Palle C'è Che anche io Ho avvolto Una mela Di merda Però Veramente Che due Coglioni Che a volte Li colpite Ma non vi calcolo Alla hitbox C'è Avrei dovuto usare Questo Senza stare Di troppo A menarmela Questo qua Avrei dovuto usare Coltello Andato a puttare Fortunatamente Ne ho messi altri Nel box Allora Andiamo va Ah che due Coglioni Sono rotto Le palle Basta Poi Del cazzo Ok Usiamo Erbicida Vaporizzazione In corso Poteva uccidere Anche tutte le piante In giro Però Non so se lo uccide Bene E quello ci dà L'accesso Al bracciale Di livello 3 Cioè vedete Che due Coglioni A merda Manca qualcosa Cosa manca La pianza blu qua Ma ce ne sbattiamo Altamente No via Dai Non ho tempo Da perdere Ah mamma mia Mamma Oh no Via Assolutamente Via Combiniamo Questo Ho usato Tutti gli aghi Elettrici Ma veramente Non avevo voglia Di star lì A sclerare Merda Merdissima Ok Posta di Byron Carfright Mettente William Birkin Oggetto Priorità alta Sicurezza elevata Da quando il nest È diventato Un covo di spie Tre solo Lo scorso mese E altre quattro Questo E sono solo Quelle che abbiamo Individuato Migliori la sicurezza Carfright O vuole fare La fine del suo predecessore Inoltre Da oggi Limiterò l'accesso All'area ovest Ignori Qualsiasi richiesta Di informazione Su G Dal quartiere generale Quei colletti Bianchi Non danno comunque Alcun contributo A questo progetto Mettete no Ripley Oggetto Attenzione Accesso non autorizzato Rilevata Disperso Nell'RBC Nell'area est Da dipendente Non autorizzato Ok Io spero Non ci siano più Quelle merde In giro Perché veramente Dovremmo essere a posto Adesso Infatti ora Qua fa un culo Per quella pianta blu Cioè ce ne sbattiamo Altamente Ora dobbiamo andare Di qua Ce ne sbattiamo Proprio altamente Però scusate un attimo Questo serve ancora Forse in un'altra Stanza avanti Allora Quindi Apriamo Anche questa zona Anche questa zona A parte che ormai Tra un po' Devo staccare Devo trovare L'agente antivirale Ora Dovrebbe esserci Un po' di pace Se non vado errato Siamo quasi giunti Alla Alle ultime Boss fight Del gioco Odio cassette Che potremmo Ascoltare avanti Scusate Videocassetta Granata Frammentazione Si è a breve La boss fight Eh si si È a brevissimo Sto controllando Qua in zona Ci deve essere qualcosa Sicuro Fatemi controllare Vediamo Infatti me la dai In rosso Qua c'è una piantina Blu Quasi quasi Mi fermerei qui Per oggi Perché Ah qua Dobbiamo aprire La porta Appunto Usando Questo è Os Benissimo Quindi Eccoci qua Scusate il rumore Ma è così Ok Bene Ottimo Come vedete Si può scartare Non serve più A nulla Se facessi il tasto giusto E qua Possiamo Vederci La videocassetta Virus G identificato Entriamo Dottor Birkin Deve venire con noi Si muova Credevate Non vi stessi aspettando Questo è il lavoro Di una vita Non lo avrete mai Scordatevelo Abbiamo degli ordini Dottor Birkin Glielo chiederò Ancora una volta Però lui Si era già Iniettato Il virus Che cazzo Ti è saltato in testa Gli ordini Erano di catturarlo Vivo Chiamatelo Pialla Ma c'è stato Un problema Ha opposto Resistenza E è stato Abbattuto Esatto Signore Ricevuto Preleviamo Il campione Muoviamoci Almeno In teoria Si era già Appunto Iniettato Alla Virus Quindi Ragazzi Io mi sa Che per oggi Mi fermo qua Perché Ci avviciniamo Alla fine Allora Questo Lo posso Mettere anche Nel deposito Iniziamo A prendere La roba Pesante Qua Adesso Si va giù Di cattiveria Si va giù Si va giù Di cattiveria Quindi E questi E questi E questi Facciamo anche Così Va Ok Direi che sono Pronto 21 granate 21 granate Acide Vediamo se c'è qualcosa Da leggere Povera Povera Una specie Originale Su PS1 Ah non abbiamo letto La sua mail Dottor Birkin Le alte sfere Hanno espresso interesse Per l'arma biologica In grado di evolversi I costi non sono Un problema La nostra È tra le compagnie Più solide Negli Stati Uniti Vittente Richard Kessler Kessler Oggetto Congratulazioni Ho avuto la buona notizia G è quasi pronto Strano che tu Non abbia mai pensato Di riportarlo Al laboratorio Di ricerca Del quartier generale Ma forse posso Chiudere un occhio Comunque Che ne dici Di inviarci i dati E non preoccuparti Hai fatto un buon lavoro Con G Ma ce ne occuperemo noi D'ora in poi Mettente Jane Wall Sempre richiamo Lei è sospettato Di aver violato Il suo contratto Con Umbrella Corporation È chiaro Che ha rivendicato La proprietà Del progetto G E che ha avuto Contatti con l'esercito Statunitense Senza alcuna autorizzazione Lei è chiamato A rispondere Alla convocazione Del comitato Di indagini Entro 24 ore Ok ragazzi Facciamoci Il salvataggio Abbiamo detto che Ma sapete che Non sono neanche convinto Di tenere la mitralietta Mmm Non sono neanche troppo convinto Di tenerla Anzi Facciamo così Va Almeno La tengo Ok Giusto per avere qualche colpo in più Si è messi bene Io ho anche Tre granate A frammentazione Quindi Cercherò comunque Poi di fare attenzione Perché Ragazzi Mi raccomando Non abusate Troppo Dei colpi Cioè si usateli Perché se ne avete Tanti così usateli Ma attenzione Perché La prossima boss fight Non sarà L'ultima del gioco Allora Quindi Ma il salvataggio Qua Dove cazzo è Cioè qui Non c'è un Potevano Mettere un salvataggio Cioè Non Non c'è un salvataggio Ma vaffanculo Devo tornare indietro Non sono Sicuro Che avanti Ce n'è uno Ce n'è uno Ancora Quindi mi conviene Mi conviene Andare Qua Dove c'è la macchina Da scrivere Appunto La sicurezza Salviamo di là Dai E se tutto va bene Salvo Intoppi Ragazzi Il prossimo video Sarà L'ultimo video Della serie Vi invito Poi a lasciarmi Nei commenti Sull'ultimo video Che farò Se volete Che porto Anche appunto La parte di Leon Se no appunto Vado Vado avanti Con Gravity Rush E Re 1 HD Remaster Invece Se volete subito La roba di Leon Lascio l'instand by Re 1 HD Remaster E lo porto poi Allora Vabbè Qua siamo a posto E' anche inutile Salviamo Ah Se riuscite ragazzi Non fate come ho fatto io Ma Prendete Abbattete le piante Le piante di merda E dopo Sparate una granata esplosiva Così almeno dopo Non ce le avete più Tra le palle Perché sono veramente Una rottura Con le piante Detto questo Spero che anche questo video Di Resident Evil 2 Vi sia piaciuto Bella lì Grazie